E' evidente che noi abbiamo sostenuto la posizione ancora una volta che era nello spirito della richiesta di rinvio ieri, di ritornare a una ragionevolezza e anche ufficialmente abbiamo chiesto a tutti di ritirare i premissivi, quando dico a tutti dico anche alla Lega e soprattutto di assumersi la responsabilità davanti ai cittadini delle proprie posizioni. Ancora non è chiaro quanti sono le richieste di voto segreto, noi abbiamo chiesto anche di ritirare tutte le richieste di voto segreto per arrivare finalmente ad un'assunzione di responsabilità. E' chiaro che dopo quello che è successo ieri la legge è in una situazione certamente di forte rischio. Io non so se questa sospensione alla fine potrà portare qualche novità positiva, certo abbiamo i nostri dubbi proprio perché le condizioni per fare un passo in avanti sarebbero quelle di ritirare gli emendamenti premissivi tutti e di limitare almeno fortemente le richieste di voto segreto. Senta ma se viene stracciato l'articolo 5...